È un periodo molto complesso, alatorio e imprevedibile. In sintesi è un periodo difficile per chi fa impresa. Negli ultimi quattro anni ci ha accompagnato una forte incertezza, nonostante, come diceva prima anche il Presidente Fontana, le ottime performance economiche del nostro settore. Perché abbiamo subito continui cambi normativi, le turbulenze geopolitiche, l'impennata dei prezzi e le ben note vicende giudiziare rendono le nostre imprese sempre meno resilienti. E oggi la dinamica molto sostenuta degli investimenti, con punte che nemmeno nel dopoguerra avevamo raggiunto, si è esaurita. La crescita legata ai bonus edilizi, che ha dato una forte spinta a tutto il mercato immobiliare residenziale italiano, anche se, bisogna dirlo, nel nostro territorio non è stato il volano principale, come è stato in altre parti del Paese, si spegnerà. Credo che ormai sia chiaro che le costruzioni siano state il settore che ha permesso all'Italia di innescare il mini miracolo post-Covid, di esplosione del PIN. Dati che, cito tante volte, ma per me sono molto significativi. Ogni euro investito nelle costruzioni attiva un indotto quasi triplo, perché è la filiera che maggiormente incide sul mercato domestico, ovvero genera ricchezza che rimane tutta nel nostro Paese. I dati del 2024 non sono ancora negativi in termini di occupati e di investimenti, ma i segnali di un'inversione di tendenza iniziano ad essere evidenti. Lo scenario dei prossimi mesi è dunque molto difficile da prevedere, perché continua l'ottovolante che già citavo nell'assemblea dell'anno precedente. Prima di tutti, la questione prezzi, che rimane legata alle turbulenze geopolitiche. Abbiamo vissuto uno sbalzo medio del 30% in più in sei mesi, che ha fatto saltare tutti i nostri piani finanziari, ma ancora non abbiamo ritrovato la stabilità. Attendiamo le ulteriori decisioni della BCE per il taglio dei tassi, ma al momento rimane il problema di accesso al credito a costi sostenibili per le imprese, oltre che per le famiglie. Se l'economia italiana mantenesse nella seconda metà dell'anno una traiettoria positiva, l'obiettivo di crescita indicato dall'Istat e dal governo per il 2024, un più un per cento, potrebbe essere potenzialmente raggiunto, o almeno con valori molto vicini a tal obiettivo. Il ciclo positivo del PIL però si può ottenere solo con il sostegno del nostro settore. Infatti gli investimenti fissi lordi in costruzioni sono fondamentali anche nel 2024. Registriamo un aumento nel secondo trimestre rispetto al trimestre dell'anno precedente di uno 0,1 per cento in più, come risultato del meno 1,1 per cento degli investimenti in abitazioni e del più 1,8 per cento degli investimenti infabbricati in opere non residenziali ed altre opere infrastrutturali. E invece per il 2025 prevediamo che gli investimenti in infrastrutture continueranno a crescere per effetto delle importanti cantierizzazioni del PNRR e delle Olimpiadi Invernali, anche se, va detto, il calo del numero degli importi delle gare banditi nei primi mesi del 2024 è un indiscutibile segnale di progressiva contrazione del mercato. Inoltre, gli investimenti nel comparto residenziale subiranno una ovvia progressiva flessione per effetto dell'esaurimento della stagione degli incentivi fiscali ad alta densità come il ormai citatissimo Superbonus. L'edilizia abitativa ordinaria ed i bonus ordinari non potranno sostenere da soli i volumi di attività che abbiamo registrato fino a questo momento. In particolare poi a Milano, dove la paralisi amministrativa dell'urbanistica derivata dai ben noti fatti di cronaca non solo sta bloccando quasi tutti gli interventi in corso ma ha anche innescato un congelamento delle nuove iniziative di sviluppo immobiliare per l'incertezza del quadro regolatorio. Considerando che nella sola città di Milano, nell'ultimo decennio, c'erano in media ogni anno un numero di cantieri attivi uguali a quella dell'intera area metropolitana con un'occupazione concentrata anche superiore possiamo solo auspicare che a breve venga definito un quadro regolatorio adeguato a consentire la ripresa delle attività edilizie. Il nostro, come sapete, è un settore che ha tempi lunghissimi di gestazione delle sue produzioni nel mercato pubblico ma ancora di più nel mercato privato. Prima di poter aprire il cantiere vero e proprio passano anni e bloccare oggi la fase di progettazione e autorizzazione vuol dire stare fermi per molto tempo. Addirittura vuol dire, in alcuni casi, perdere l'interesse ad investire. Il nostro settore, lo sapete, ha sempre dovuto fare i conti con un sistema normativo complesso, stratificato nel tempo, zavorrato da prassi arcaiche e da una burocrazia che si autoalimentava. È una questione che come sistema paese non l'abbiamo mai completamente affrontato e conseguentemente non siamo mai riusciti del tutto a risolvere. L'eredità del passato è, prima di tutto, quella di avere un sistema vessatorio e burocratizzato che appesantisce tutto il ciclo produttivo e deprime l'innovazione e il cambiamento. Si è potuto superare talvolta la palude solo, in che modo? Solo attraverso leggi speciali, commissari ad acta, provvedimenti emergenziali. Nel tempo è stata messa in campo una semplificazione che ha permesso di accelerare alcune fasi. La digitalizzazione è entrata prepotentemente anche nella gestione della cosa pubblica, ma non certo ancora nel nostro settore. Penso ad esempio alle difficoltà legate al BIM o al recente problema delle gare digitali. Consentitemi di condividere però con voi i nodi storici, perché lo diciamo proprio nel titolo della nostra assemblea. Ieri, oggi, domani, una via verso il 2050. Dobbiamo partire dal risolvere quello che di sbagliato ci portiamo dal passato per poter guardare in modo veramente efficiente al nostro futuro. Un primis, la mancanza di fiducia che spesso c'è tra pubblica amministrazione e imprese, che genera una bagliera culturale difficile da abbattere. Una filiera frammentata, la nostra, e con una catena del valore basata sul conflitto prima che sulla ricerca di accordi collaborativi. Un modello che ha drammaticamente dimostrato la sua inefficacia negli ultimi due anni in conseguenza di l'impennata dei prezzi che ha fatto vacillare tutti i nostri piani finanziari. La leva fiscale usata strutturalmente solo come strumento per far far cassa allo Stato. Il fallimento delle politiche volta a cambiare questo approccio strategico come avvenuto per il 110 non può essere semplicemente liquidato come tale perché gli effetti ricadono prima di tutto sulle spalle delle imprese e dei lavoratori oltre che su quelle di tutti i cittadini. Leggi urbanistiche vetuste e riforme incomplete che hanno solo aggiunto norme su norme generando un quadro lontanissimo dalle esigenze di rigenerazione del nostro territorio. La sottovalutazione per anni dell'importanza centrale della manutenzione del territorio per contrastare fenomeni estremi e i cambiamenti climatici con investimenti adeguati che ha favorito il consolidarsi di una prassi di intervento in emergenza senza un'adeguata programmazione. Un disallineamento crescente tra domanda e offerta di lavoro sia in termini numerici sia in termini di qualità delle competenze. Un problema gavato da un tasso di natalità ormai critico e da un sistema formativo troppo lento al cambiamento per adeguare i percorsi scolastici alle competenze necessarie. Il costo dell'edilizia, il costo del lavoro nel nostro settore è che è certamente più elevato che in altri comparti della lunga filiera delle costruzioni ma perché è più elevato? Perché ha un welfare che lo accompagna di grande qualità e di grande valore purtroppo però non tutelato da dumping contrattuali concorrenziali. L'insieme delle norme che regolano il mercato dei lavori pubblici che dopo anni di cambiamenti normativi però ancora non è stato in grado di risolvere i problemi legati all'assetto regolatorio che governa il settore e quello delle risorse disponibili per gli investimenti. Bisogna partire dal capire cosa non ha funzionato dagli ieri nella normativa nell'ultimo decennio per arrivare a una discussione fattiva sulle proposte per il decreto correttivo annunciato dal ministro Salvini. Così come bisogna anche ancora fare i conti fare i conti con i nodi del passato per poter dare attuazione agli investimenti del PNRR e ragionare sulle prospettive e sulle sfide future per lo sviluppo delle opere pubbliche in Italia dopo la conclusione del piano. È molto importante iniziare a ragionare su cosa succederà quando si esaureranno le risorse del PNRR. Il sistema di rilevamento e formazione dei prezzi di cui già accennava anche prima il Presidente della Regione riteniamo però non sia ancora sufficientemente dinamico e utile a riuscire ad accompagnare effettivamente una fluttuazione dei valori possibili come abbiamo tristemente sperimentato nel nostro Paese in questi due anni. È un Paese che non ha uno strumento veramente adeguato per stabilire il valore delle opere che deve commissionare è debole e genera un mercato molto fragile. Abbiamo vissuto nel passato l'epoca dei grandi ribassi e quello delle gare a deserto. Dobbiamo trovare assolutamente un equilibrio per il futuro. Il ripetersi di ricorrenti fasi di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese è solo uno dei sintomi di un sistema fragile e incapace di essere fautore di crescita del sistema. Le imprese non possono fare da cassa alla pubblica amministrazione. Un arcaico modello di ricaduta a cascate le normative europee che mal però si calano in quello che è il nostro contesto italiano generando disvalore e gravando sulla capacità concorrenziale del nostro Paese con il resto dell'Europa. La mancanza, lo citava il sindaco Sala prima, la mancanza di politiche di sostegno alla casa sociale che nel tempo hanno generato un fabbisogno che ora è uno dei punti cruciali più difficili da affrontare. soprattutto se lo Stato continua a mantenere la sua strategia di disinvestimento. Un approccio distorto al green che non ha favorito politiche di economia circolare del settore delle costruzioni generando un ritardo nello sviluppo di questa economia che invece è fondamentale per ottenere una vera transizione ecologica. L'uso del partenariato pubblico-privato è stato uno strumento fondamentale spesso come mero contratto ombrello di tradizionali appalti. Il codice dei contratti, le direttive comunitarie e il corpus di soft law offrono diverse opportunità procedurali e contrattuali per strutturare contratti di partenariato superando le criticità del passato. Perché infatti proprio il contratto di partenariato pubblico-privato sarebbe quello strumento in grado di offrire flessibilità fondamentale per catturare le risorse e per adattarsi rapidamente alle modifiche dei piani finanziari-economici. Il partenariato pubblico-privato può agire proprio come leva nel mercato privato rendendolo più competitivo e innovativo. Potrei continuare con l'elenco perché potrebbe essere molto lungo però voglio fermarmi qui dopo entreremo nel dettaglio nelle tavole rotondo successive di alcuni di questi problemi. Prima però di parlare di quello che dobbiamo fare oggi vorrei sottolineare che forse il tema centrale tra tutti quelli che ho citato è che un paese come il nostro non può accettare leggi retroattive messe in discussione di norme sulle quali si è fatto legittimo affidamento. Non può attendere anni che la giustizia faccia il suo corso. È veramente difficile fare impresa in queste condizioni. Veniamo all'oggi, alle priorità. Siamo a Milano e quindi proprio dalla nostra città vorrei partire perché sappiamo bene che qui si anticipano nel bene e nel male fenomeni che poi tutto il paese si trova a dover gestire. La situazione di grandissima incertezza venutasi a creare nel corso degli ultimi mesi sull'interpretazione di alcune regole urbanistiche ed edilizie nazionali sta determinando effetti fortemente negativi in tutto il paese non solo a Milano e rischia dunque di provocare una battuta di arresto alle già timide politiche di rigenerazione delle città in Italia. Le conseguenze di questa incertezza sul mercato abitativo e immobiliare per la mancanza di garanzia e di tempistica certa per l'esecuzione degli interventi sono davvero rilevanti e riguardano non solo imprese, professionisti e tutta la filiera delle costruzioni ma riguarda in primis le famiglie. Nella recente audizione che abbiamo avuto sul cosiddetto Salva Milano è stato evidenziato che la proposta di legge in esame è una prima risposta seppur di breve termine alla situazione attuale. Auspichiamo che si possa mettere fine all'incertezza normativa fornendo un'interpretazione chiara delle regole che attualmente sono oggetto di letture interpretative divergenti. La proposta di legge affronta anche il tema del regime transitorio dando continuità agli interventi realizzati e assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordine del settore però serve grande attenzione a non lasciare vuoti applicativi. L'esigenza di questo intervento normativo deve costituire dunque il punto di partenza per poter superare le attuali normative anacronistiche che hanno compiuto più di 80 anni con la legge urbanistica e più di 50 anni con il decreto sugli standard. Un quadro normativo che non è assolutamente più sostenibile in quanto non più rispondente alle esigenze che le stesse politiche europee stanno delineando. Dobbiamo quindi affrontare una gravissima crisi ma dobbiamo anche dare risposte a temi e questioni tante volte affrontati e mai completamente risolti nonostante i vari tentativi fatti negli anni. che a volte hanno anzi reso più complesse le norme di riferimento. Da sempre cosa sosteniamo? Sosteniamo che una reale ed efficace riforma in materia di generazione urbana dovrebbe iniziare non tanto dall'edilizia quindi la riforma del DPR 380 del 2001 bensì dalla disciplina urbanistica tuttora legata ad una legge come dicevo prima del 1942 ed è da un decreto ministeriale del 1968 ma parlando di rigenerazione è da affrontare il tema di consentire interventi sull'edificato degradato e ambientalmente compromesso anche oltre il restauro e risanamento conservativo attraverso opere che possono implicare un'innovazione funzionale energetica e tecnologica in linea con i nuovi standard di qualità dell'abitare. Finisco sottolineando che è importantissimo che siano fatte salve tutte le normative regionali previgenti in linea con gli obiettivi nazionali al fine di tutelare i processi avviati garantendo la prosecuzione di un quadro normativo già assestato. Questo discorso vale in particolare per la Lombardia che è stata una delle prime in Italia ha già emanato nel 2018 la sua legge sulla rigenerazione urbana. Strettamente legato al tema urbanistico poi c'è il tema della casa. Nel 2050 il 34,5% del totale della popolazione italiana avrà più di 65 anni e i giovani fino a 14 anni saranno meno del 12% totale. Crescerà considerabilmente il numero delle famiglie che saranno sempre più piccoli e composte da una persona sola e prevalentemente anziana. Il problema della casa è destinato ad esplodere ben oltre i livelli che stiamo vivendo oggi. La priorità qual è? È oggi disegnare una strategia per l'abitare che permetta all'offerta di adeguarsi rapidamente alla nuova domanda. Più accessibilità economica, sviluppo di nuovi format più fessibili, anche costruttivi sul dimensionamento delle unità immobiliari, ampliamento del mercato dell'affitto che oggi riguarda solo un quarto della nostra popolazione. Dobbiamo affrontare questa sfida consapevoli che il soggetto pubblico deve dialogare sempre di più con i privati in una logica di partnership pubblico-privato per coprire la mancanza di un'offerta adeguata per costi e per tipologie. Ma per farlo bisogna prima di tutto agire per coordinare le politiche urbanistiche con quella abitativa alla scala più adeguata dell'area metropolitana milanese. L'edilizia abitativa deve essere alla base delle scelte strategiche dell'amministrazione pubblica, favorendo il riuso del patrimonio immobiliare pubblico dismesso e la riqualificazione di quello delle periferie. È urgente un quadro di regole che renda sostenibile per il privato farsi carico di realizzare anche le quote di edilizia sociale, ERS o ERP, che il pubblico non riesce a finanziare direttamente. Questo approccio deve partire dal principio dell'equilibrio economico degli interventi. Il privato può e deve farsi carico di contribuire alla soluzione del tema dell'audi in sociale, ma entro i limiti della fattibilità economica. Di fatto Milano è una città attrattiva, ma sta perdendo la partita dell'inclusività, rischiando di diventare una città che esclude una parte importante della popolazione caratterizzata dai redditi più bassi. Sebbene sia la rappresentante più autorevole della transizione da un'economia industriale a un'economia di servizi, Milano rischia infatti di perdere quella parte fondamentale di popolazione che di fatto produce le sue risorse, i professionisti, gli studenti, gli insegnanti, i medici e gli operatori sanitari. Con questa consapevolezza la creazione di spazi per l'abitare sociale in tutte le sue forme deve essere subito risolta e deve tornare al centro dell'agenda delle politiche pubbliche a livello cittadino come è, ma anche a livello centrale. E tra questi cittadini che rischiano appunto di allontanarsi dalla nostra città non posso non parlare degli studenti. Gli Atenei così come gli enti di formazione superiore si stanno attrezzando per incrementare l'offerta residenziale nei campus registrando una evidente crescita delle concessioni di lize di realizzazione di nuovi studentati sia convenzionati che di libero mercato. Comunque la risposta infrastrutturale nonostante questo dinamismo è insufficiente rispetto alla crescita del numero di studenti fuori sede e questo comporta che Milano si confermi in cima alle classifiche delle città più care per gli studenti fuori sede. Lascio poi la parola al mio vicepresidente Gabriele Bisio nel panel dedicato per proporvi su questo tema una strada e una via al 2050. Io continuo non posso non fare un accenno al tema della Casa Green Ci sarà poi un pannello dedicato ma qualche parola la voglio spendere anch'io. È un tema assolutamente prioritario oggi affrontare la questione delle risorse per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Chiediamo che il piano che il governo sta approntando definisca questo tema non solo in termini di adeguatezza economica ma anche di pianificazione temporale di medio e di lungo periodo. Per questo cosa serve in primis? Serve la mappatura degli immobili pubblici e privati e dei loro consumi per riuscire a creare una base oggettiva su cui costruire il piano di riqualificazione nazionale e gli strumenti per il raggiungimento di questi obiettivi. Le risorse devono essere utili a innescare investimenti costanti e strutturali. Siamo ben consapevoli che il solo sostegno pubblico non potrà mai coprire tutto questo fabbisogno. Per questo è necessario che siano messi in campo oltre agli incentivi di natura economica misure atte a favorire il partenariato pubblico privato. Incentivi fiscali adeguati e rimodulati in base alle performance energetiche raggiunto e strumenti finanziari di supporto. Solo per citare alcune strade la cessione del credito e lo sconto in fattura la detrazione IRPEF pare al 50% dell'IVA pagata in sede di acquisto di case in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero. Bisogna fare tesoro dell'esperienza che sta avvolgendo al termine consapevoli della necessità di regole chiare per un mercato sano fatto di qualificazione delle imprese che effettuano i lavori una sicurezza per le imprese stesse per i lavoratori e per i cittadini la salvaguardia dell'ambiente e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è sicuramente una delle grandi sfide da giocare per la sostenibilità della crescita del nostro paese un impegno a cui saremo chiamati tutti nei prossimi anni ma ci auguriamo che l'azione sul patrimonio immobiliare costruito sia anche l'occasione per promuovere l'innovazione tecnologica l'occupazione e il lavoro bisogna infatti puntare anche a sostenere la crescita della capacità produttiva del settore delle costruzioni attraverso politiche che permettano al sistema economico di fare occupazione di fare innovazione tecnologica di creare occupazione e lavori stabili e qualificati una leva che dobbiamo ammetterlo non è stata molto efficace fino ad oggi nel nostro paese dobbiamo essere in grado di formare specialisti della ristrutturazione green in grado di lavorare per l'economia circolare del processo di rigenerazione del patrimonio costruito riciclo e riutilizzo dei materiali specialisti digitali di questo settore ma tutto ciò non basterà se non saremo in grado di attivare un flusso in questa direzione anche nella finanza sostenibile e nella gestione del capitale umano è necessario quindi un cambio culturale che parta dalla sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza di vivere in case efficienti da un punto di vista energetico al fine di permettere un risparmio sui costi ma anche garantendo una migliore salubrità dell'aria e della qualità della vita ovvero bisogna lavorare sulla consapevolezza che tutti siamo chiamati a fare il nostro percorso verso la sostenibilità noi come associazione cosa abbiamo fatto l'abbiamo presentato l'anno scorso abbiamo lanciato un codice di condotta cantiere impatto sostenibile e sono felice di potervi raccontare quali sono i risultati che in un anno abbiamo raggiunto oltre 50 cantieri attivati che hanno adottato il codice di condotta con più di 2000 imprese convolte proprio per la lunghissima filiera che la nostra attività va ad attivare Ance Bari e Bat Ance Veneto Est Ance Cremona hanno adottato il codice e con molti altri stiamo lavorando all'implementazione abbiamo firmato protocolli per il riconoscimento di questo codice di condotta con CAP con Serravalle con il Comune di Monza con Banca Intesa stiamo lavorando in Uni per fare una PDR specifica su questo su questo codice di condotta quindi questo è il nostro impegno concreto per qualificare la nostra filiera parliamo tanto di quello che chiediamo alla pubblica amministrazione al mondo al di fuori di noi ma cerchiamo di lavorare tanto anche sulle nostre imprese oltre a questo cosa abbiamo fatto siamo impegnati anche a creare percorsi volti a dare valore all'impegno sociale del nostro settore abbiamo costruito dentro il carcere di opera una scuola di formazione per i detenuti l'abbiamo fatto con l'organizzazione sindacale di settore con il carcere con la fondazione di Don Gino Rigoldi umana e la nostra scuola di Ise la nostra scuola di Ise l'Ese MCPT un'eccellenza della nostra bilaterarità stiamo lavorando poi per la formazione e l'inserimento lavorativo dei rifugiati insieme alle prefetture locali e con la camera di commercio di Milano Lodi Monza e Brianza altra questione centrale dell'oggi è quella della legalità e anche su questo tema il nostro impegno è effettivamente concreto abbiamo attivato in base allo specifico protocollo firmato da Ance e dal Ministero degli Interni sottoscritto poi con i nostri tre prefetti di Milano Monza e Lodi un servizio di verifica antimafia di fatto in cosa son siste i nostri uffici accedono alle banche dati della prefettura per un controllo utile a gestire il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri pubblici e privati io credo che infatti la via al 2050 non possa non avere la sicurezza del lavoro e la regolarità contrattuale come assoluto valore cardine saremo chiamati a dare attuazione alla patente a crediti il nostro settore ritiene fondamentale che ciò riguardi tutta la filiera che opera nei cantieri edili sappiamo che appunto su questo tema ci sono ancora delle questioni di acchiarire e aspichiamo che non si parta dall'incertezza applicativa come associazione e grazie all'apporto fondamentale della nostra bilateralità implementeremo tutte le azioni formative di supporto necessarie alla piena operatività di questa patente così come non si abbassa mai il nostro presidio attraverso la cassa edile per il contrasto all'irregolarità contrattuale si apre un periodo molto intenso di lavoro tra le organizzazioni sindacali dell'edilizia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo provinciale ma auspichiamo che la direzione sia quella di un confronto costruttivo per il bene comune di imprese e lavoratori anche alla luce di quelle che sono le prossime scadenze europee ci aspettano mesi complessi poi anche per un altro tema la messa a terra dei cantieri del PNRR e nel nostro territorio anche delle Olimpiadi cosa temiamo? temiamo che la cantierizzazione si concentri a metà del 2025 e nel 2026 generando evidenti problemi di sovrapposizione da non sottovalutare poi la revisione dell'ultimo anno che ha creato qualche spostamento di risorse dalle costruzioni al settore energetico i 15 miliardi di investimenti esclusi dal piano hanno trovato altre coperture ma certamente quello che ci preoccupa è che uscire dai tempi dell'Unione Europea vuol dire anche rischiare di scivolare in percorsi paralleli senza certezze nei tempi di conclusione così come auspichiamo che la rimodulazione degli obiettivi con lo spostamento in avanti degli investimenti nelle rate provenienti dal bilancio europeo che comporterà la riduzione di circa 11 miliardi nelle dotazioni di casse italiane nel triennio 24-26 non abbia conseguenze sui pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori ne parlerà il prefetto di Milano poi nel panel con il mio vicepresidente Paolo Riva ma al momento un dato positivo non riscontriamo nel nostro territorio particolari criticità e speriamo che così si possa arrivare appunto nei tempi corretti al completamento dei lavori a tal fine abbiamo attivato proprio ben tre aree di lavoro per il monitoraggio dell'andamento dei lavori del PNRR con Anci Lombardia con il Cresme e con Università Bocconi intanto sempre con la regione Lombardia lo citava prima il presidente Fontana prosegue il nostro impegno per il preziario che deve essere ancora totalmente completato deve essere ancora completato fino in fondo e aggiornato così come spieghiamo che nel correttivo appalti si possa intervenire per risolvere alcune questioni che sono rimaste ancora in sospeso ma sono di grande importanza per il nostro settore lo svolgimento delle procedure di affidamento la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti pur essendo stata enunciata la regola generale della revisionabilità del corrispettivo d'appalto mancano purtroppo le norme attuative e questo rende di fatto il principio ad oggi lettera morta è un aspetto molto delicato per l'appaltatore questo che deve formulare l'offerta per partecipare alla gara senza riuscire ad avere la contezza di tutti gli aspetti fondamentali che attengono al profilo economico del lavoro analogamente lato stazione appaltante queste si trovano a sottoscrivere un contratto senza conoscere gli aspetti concreti del loro possibile sborso economico quindi è fondamentale riuscire a chiudere questo anello altra questione riguarda l'impostazione generale ispirata alla logica del fare bene e fare presto il principio di risultato però non può essere limitativo dell'apertura del mercato alla concorrenza per questo è importante non restringere l'accesso al mercato degli operatori economici come è avvenuto invece istituzionalizzando fino alla soglia comunitaria l'utilizzo delle procedure negoziate senza bando capiamo capiamo perché viviamo appunto anche noi nel mercato che la misura era necessaria per favorire la massima velocità nella giudicazione dei contratti tuttavia però riteniamo si tratti di una soglia eccessivamente elevata che rischi di produrre un effetto inverso a quello auspicato e cioè limitare la trasparenza la pubblicità e la concorrenza sempre sotto il profilo dell'accesso al mercato appare non del tutto coerente la scelta di ampliare ulteriormente l'autonomia dei settori speciali dal momento che rappresentano il 36% del mercato anche l'ampliamento del perimetro delle società in house solleva qualche qualche dubbio però non voglio dilungarmi ulteriormente consentitemi in conclusione di tornare sulla mia città come cittadina prima di tutto e poi come imprenditrice è una città con caratteristiche di elevata densità con una netta prevalenza dei pieni sui vuoti ma è una città ricca di grandi opportunità di rigenerazione da sempre qui abbiamo fatto da apri piste per strutture idee di riqualificazione e di transizione ecologica impiego di energie rinnovabili con progetti e impianti sempre più orientati verso la decarbonizzazione nel nostro territorio si concentra l'80% delle pompe di calore alimentate dalla geotermia della Lombardia e del nord Italia uno degli indici a mio avviso che conferma che nel nostro territorio è in atto un percorso concreto verso la sostenibilità la decarbonizzazione e la qualità dell'ambiente il tema del verde poi riveste un ruolo fondamentale non solo per gli aspetti ambientali e le positive riquadute sulla qualità dell'aria ma anche per gli aspetti sociali di benessere dei cittadini adesso correlati gli spazi verdi sono una ricaduta degli interventi di rigenerazione sono luoghi di aggregazione sono luoghi di divertimento generano benessere psicofisiche e soprattutto in una città come quella di Milano a forte densità abitativa portano grandi benefici se mantenuti in efficienza e non in stato di abbandono Milano in questi anni ha favorito la rigenerazione urbana con appunto un processo di implementazione delle aree verdi e piantumate che oltre ad avere una funzione sociale culturale ed estetica come dicevo prima favoriscono l'approvvigionamento dell'acqua incrementano la permeabilizzazione del suolo costituiscono rifugio per fauna e biodiversità riducono l'effetto isola di calore trattengono gli inquinanti atmosferici e attutiscono i rumori fino al 70% rigenerare la città quindi significa crescere la vivibilità la sicurezza del contesto urbano degli immobili pubblici e privati degli spazi pubblici e delle infrastrutture favorendo la crescita delle relazioni sociali e del senso di comunità valore fortissimo in ogni città io cosa credo io credo che Milano abbia giocato questa partita con grande capacità di innovazioni con azioni che abbracciano tutta la città non solo alcune parti tutta la città quelle degradate dismesse e abbandonate grandi interventi di rigenerazione hanno permesso o permetteranno se riusciremo a realizzarli di recuperare territorio degradato con forti criticità ambientali con ingenti risorse private fatte confluire per la bonifica dei terreni la rimozione di manufatti obsoleti con lo smaltimento e il recupero di tanto materiale infatti da ricordare però anche che il degrado ambientale a cui facevo cenno è sempre accompagnato anche da un degrado di tipo sociale e per questo dove si è già intervenuti e dove speriamo di poter intervenire è aumentata la resilienza green l'adattamento ai cambiamenti climatici l'adeguamento e miglioramento della sicurezza sismica l'efficientamento idrico e energetico oltre alla qualità di vita delle persone la trasformazione della città poi cosa ha anche agevolato? Ha agevolato l'integrazione tra infrastrutture e nuovi poli urbani ciò ha permesso anche di sperimentare la realizzazione di grandi insediamenti in maniera copianificata un obiettivo che dobbiamo implementare sempre di più coinvolgendo non solo le locali amministrazioni ma anche la regione e gli enti gestori delle infrastrutture diverse progettualità sono converse migliorando la qualità di vita di tutti da un punto di vista ambientale e da un punto di vista economico i grandi progetti urbani non solo trasformano il territorio ma possono generare quella coesione sociale fondamentale per il miglioramento della qualità del vivere che è l'obiettivo a cui tutti tendiamo auspico pertanto che lo stesso spirito possa adesso aiutarci a trovare anche la strada migliore per riuscire a risolvere una questione alla ribalta della cronica in questi giorni che è quella che riguarda lo stadio di San Siro purtroppo invece spesso l'intervento di trasformazione della città nonostante tutto quello che vi ho raccontato fino ad adesso è percepito come una profonda ferita all'interno del tessuto consolidato sovente inconsapevoli dei benefici che verranno generati anche a favore della comunità dalla realizzazione del progetto la cittadinanza percepisce solo i disagi del cantiere sollevando contestazioni e lamentelle nella fase di realizzazione dell'intervento o anche successivamente quando l'intervento è già realizzato in realtà l'opera realizzata ha avuto secondo le prescrizioni di legge a completamento della fase di progettazione un'analitica ed approfondita fase distruttoria presso i deputati uffici comunali oltre ad una fase di contraddittorio tecnico e politico con l'amministrazione per la definizione delle caratteristiche compositive e dimensionali e della natura o entità dei servizi di realizzare in compensazione oltre che per la cessione di aree per la realizzazione di spazi a verde di questo la città e la sua storia anche la più recente ne può offrire tantissimi esempi non sono solo la realizzazione delle grandi infrastrutture come una nuova linea della metropolitana o di opere pubbliche di grande dimensione e di impatto ma ne sono esempio tutte quelle opere di trasformazione anche minuta che comportano inevitabilmente modificazione della viabilità incidenza sull'attività degli esercizi commerciali inquinamento acustico e ambientale forse cosa può essere mancato un attento e preventivo coinvolgimento della città in molte di queste situazioni e guardando al futuro credo sia necessario rivedere il modello di relazione che ha retto i processi di rigenerazione e aumentare i momenti di ascolto e di analisi dei bisogni gli interessi non sono contrapposti gli interessi di tutti noi imprese cittadini pubblica amministrazione sono comuni migliorare il nostro territorio e la qualità di vita delle persone per questo dobbiamo trovare i punti di condivisione in un rapporto dialettico e non di potere o di affermazione dei diritti vi ringrazio di condivisione